e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video raga oggi è il giorno di cremonese roma e si gioca a cremona e raga oggi contano solo i tre punti dobbiamo entrare in campo e prenderci i tre punti assolutamente e si appunto ho letto qualche ho letto le probabili formazioni c'è chi porta il tre dente con pellegrini di bala abraham c'è chi riporta il tre dente invece con e sharawi sul balken belotti e alcuni appunto a posto di smalling probabilmente ci sarà con bula e poi accenerà un po alcuni dicono che potrebbe anche iniziare geni che fa rifiare uno tra che tra cristante matice e a sinistra ci sarà spinazzola per far rifiare anche zaleschi qui a destra alcuni mettono carter alcuni selic bisogna vedere anche a destra però raga quello che conta oggi non conta la formazione ma contano i tre punti prendersi i tre punti stop anche perché comunque la cremonese ha fatto zero vittorie finora in campionato e io ho paura che la prima vittoria in campionato la fa con tre di noi cioè la cremonese a 9 punti in classifica tutti e 9 con i parigi ed è ultima dobbiamo anche appunto vincere perché è appunto l'atalanta ha perso e ci sta meno tre vincendo andremo addirittura più sei anche dall'atalanta quindi metteremo un margine ancora più grande all'atalanta anche l'inter ha perso quindi andremo a pari punti con inter e milan al secondo posto quindi tanta tanta roba vincendo e anche perché comunque la prossima cioè la juve c'è roma juve la prossima all'olimpico quindi vincere con la cremonese è fondamentale chiedere raga per questo video lasciate like iscrivetevi attivate la caffanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video ciao ragazzi